XT è uno scarpone all mountain ad elevate prestazioni, che può essere usato anche per il freeride e per lo sci alpinismo in versione touring. XT è lang, per cui altissima qualità e performance. XT è lang, per cui altissima qualità e performance. XT è lang, per cui altissima qualità e performance.